Con la fine dell'estate si riapre la stagione dei funghi e come tutti gli anni sono molti gli appassionati che si avventurano all'interno dei boschi spesso incorrendo e spiacevoli episodi, quali malori, perdita dell'orientamento, ferite o addirittura morte. Al fine di evitare simili incidenti e di esercitare la raccolta in sintonia con le norme, ecco i consigli utili agli amanti di questa attività. Documentarsi sull'itinerario e scegliere i percorsi adatti alle proprie abilità fisiche e psichiche. Comunicare i propri spostamenti prima di intraprendere l'escursione. Evitare di inoltrarsi da soli nel bosco. La presenza di un compagno è garanzia di un primo soccorso. Consultare prima della partenza i bollettini meteorologici e osservare costantemente sul posto le evoluzioni delle condizioni atmosferiche. In caso di maltempo non sostare in prossimità di alberi, pietri ed oggetti accuminati perché potrebbero attirare fulmini. Scegliere l'abbigliamento e l'attrezzatura adatta all'impegno e alla lunghezza dell'escursione si consigliano a calzature da trekking, cellulare e lampade provviste di acqua e cibo. In caso di necessità contattare sempre il 1515 numero di emergenza ambientale del Corpo Forestale dello Stato.